Quest'estate ci facciamo un viaggio, ce ne andiamo in un posto bellissimo. Che posto è? Non lo so. Quanto ridevate in quella stanza. Sentivo solo ridere, ridere, ridere. Ci faceva ridere tutto. E che freddo fa. Basterebbe una carezza, per un cuore di ragazza. Forse allora sì che ti amarei. Tu sei normale, per sé. E la vita senza l'amore è solo un albero che in foglie non ha più. E le scienza e il vento, un vento freddo, come le fronte e le speranze. E buttai giù a questa vita cos'è? E manchi tu. Che c'è? Rimanendo in tema di film d'azione, ho per voi una curiosità su Kill Bill, uno dei più famosi action movies di tutti i tempi. Nell'agosto del 2000, Tarantino regalò per i trent'anni di Uma Thurman la sceneggiatura di Kill Bill e le offrì il ruolo di protagonista. Che bel regalo. Durante i titoli di coda compare la scritta Based on the Character of the Bride, created by Q&U. E Q&U sono chiaramente le iniziali di Tarantino e della Thurman. Furono proprio il regista e la sua musa a tracciare a grandi linee la trama di Kill Bill sul set di Pulp Fiction nel lontano 1994. Lo sapevate? Fatemi sapere, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti.